Un saluto dal Tg della Mobilità. Domani dalle 14.30 alle 20 si svolgerà la manifestazione nazionale indetta dal movimento Non Una Di Meno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il corteo da Piazza della Repubblica sfilerà sino a Piazza di Porta San Giovanni percorrendo Vienaudi, Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Via dello Statuto, Piazza Vittorio Emanuele II e Via Emanuele Filiberto. Dalle 8 scatteranno i divieti di sosta in Piazza della Repubblica e in Piazza di Porta San Giovanni. È prevista la partecipazione di circa 50.000 persone. Saranno deviate o limitate nei loro percorsi 28 linee del trasporto pubblico. Su richiesta della Questura di Roma sarà anche possibile l'interruzione del servizio della stazione metro San Giovanni. È tutto appuntamento alla prossima edizione.